buongiorno a tutti allora oggi abbiamo maialino in agrodolce al curry o meglio maialino al curry con patate arrosto diciamo così perché gli altri mangiano il purè ma io come ho visto il purè mi sono sentito male e gli ho detto di fare i bravi se non faccio l'invitazione della telefonata di vergone quando faceva il medico vedere il viaggio di nozze e gli faccio passare la voglia di mangiare il purè quindi niente stasera abbiamo il maialino non è lo spessatino ma il maialino al curry poca luce ma tanto si vede lo stesso vi faccio anche una dei pezzettini di maialino così vi faccio venire fame da lupi e detto questo ragazzoni io vi saluto vi ringrazio e naturalmente ci vediamo alla prossima sperando che vi abbia fatto venire fame ciao